Un'opportunità concreta per i giovani che hanno voglia e capacità di fare. Sono partiti questa mattina i Corner d'Artista, postazioni garantite dal comune a 65 artisti e artigiani selezionati con un bando pubblico per esporre e vendere i propri manufatti. La graduatoria si è basata sull'età dei partecipanti, con 18 anni appena compiuti per la prima classificata e un'età media di 33 anni. Generalmente lavoro con legno, metallo e questo per esempio è un portabicchiere. Ho fatto il liceo artistico, poi ho fatto l'accademia, poi c'è un papà artista. Mi restavo l'emparata all'università, tutto questo che le vede qua, piatti e tutte queste opere colorate l'emparata senza l'aiuto di nessuno, mettendomi a sperimentare questo tipo di opera che facevo da un bel po' di tempo, dopodiché ho scoperto avere questi doti manuali. Da piazza San Pasquale al Borgo Marinari, dal centro direzionale a Fuorigrotta, i giovani talenti si sono messi presto al lavoro, trasformando in qualche caso per la prima volta la propria passione creativa in un lavoro. Ti piace? È un teschio di mucca. A volte faccio il gisulista molto, a volte faccio il mucca, a volte faccio le pecore. Avendo avuto altre esperienze, ho lavorato poi, ho fatto l'incisore però con una fresetta manuale e mi sono messo così a giocare con questo filo, ho fatto orecchini, collane, cose che hanno avuto un discreto successo, bisogna crederci, quando fai qualcosa bisogna sempre crederci. Le postazioni saranno in funzione dal giovedì alla domenica fino al 31 dicembre. Ci sono le idee, c'è la capacità manuale e metterle insieme è una grande risorsa di questa città. Gli artisti, gli artigiani sono una delle cose più belle che abbiamo a Napoli. Noi stiamo dando in alcuni splendidi angoli della città e non soltanto nel centro, come si dice sempre, qui siamo a fuori grotta, delle occasioni, dei posti belli dove poter produrre e vendere le opere del proprio genere. C'è una grande attenzione a questa cosa, faremo presto un altro bando per il 2013, per la prima parte del 2013. Lo spazio è per tutti, l'unica regola è che devi dimostrare di saper fare delle cose.